Radio 2, sono le 21 e 30 Rai, GR2 Tornare indietro il 50 mila anni, incontrare l'uomo di Neandertal e mendessimarsi in lui L'insolita esperienza sarà presentata sabato mattina a San Felice a Circeo nella grotta Guattari dove nel 1939 furono rinvenuti i resti fossili della prima specie umana che si adattò al continente europeo L'iniziativa è della Fondazione Marcello Zei che cura la mostra permanente Homo Sapiens e Habitat nella Torre dei Templari della cittadina laziale